Marco Scaramellini correrà per il secondo mandato. L'annuncio ufficiale del sindaco di Sondrio è arrivato insieme alla conferma della compagine che lo sosterrà la stessa di cinque anni fa con la civica Sondrio Viva e Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari Retici e Sondrio Liberale. Essere il sindaco di tutti è un dovere, ma è anche nel mio stile, quindi io cerco sempre di dare attenzione a tutti, di valutare le proposte di tutti senza condizionamenti di sorta. Durante la pandemia le priorità sono cambiate, davanti a tutto c'è stata la necessità di salvaguardare la salute dei cittadini e questa pandemia ci ha condizionato un po' nel lavoro di cinque anni perché sapete che è durata quasi tre anni. Ho cinque anni di lavoro fatto con una squadra secondo me formidabile e quindi i cittadini possono decidere anche su questi fattori. Se avremo fatto bene immagino che i cittadini ci daranno la fiducia. Voglio cercare di dare risposte ai cittadini e quindi sono sempre teso a cercare anche di capire se quello che facciamo effettivamente va nella direzione giusta. I momenti un po' di sconforto ogni tanto ci sono perché mi interrogo se sono all'altezza di svolgere questo ruolo. Però ci sono anche dei momenti molto piacevoli come quella signora che mi ha fermato per strada di 87 anni. Mi ha stretto la mano e mi ha detto lei è una brava persona. Ecco questo mi fa piacere, l'importante è questo. Noi dobbiamo dare un esempio alla comunità quando ricopriamo questi ruoli, l'esempio di onestà e di correttezza. Poi le attività che facciamo possono essere condivise o meno ma l'importante è che di fondo ci sia questa serietà. Presto per parlare di programma anche se l'attenzione è rivolta alle opportunità legate ai giochi olimpici. Sicuramente i problemi che noi abbiamo che si sono acuiti negli ultimi anni ma rispetto per esempio a tangenziale abbiamo a 30 anni sono problemi da risolvere a prescindere dalle Olimpiadi. L'Olimpiade ci dà la possibilità di avere i finanziamenti per risolvere. Quindi noi dobbiamo essere bravi a spendere bene questi soldi e a sfruttare questa occasione.